Siamo con i Can Canis, una partita un po' dal sapore grodolce perché primo gol tra i professionisti, però una sconfitta è arrivata ancora a tutto un minuto. Che partita hai visto? Peccato, c'è dispiacere. Non ce l'aspettavamo, però bisogna lavorare, stare zitti e lavorare. Sei stato in campo molto deciso, ti chiedo qual è stato l'impatto con i professionisti, visto che per te era la prima stagione. Mi sono subito trovato bene perché bisogna giocare a calcio tranquilli e sereni, con la consapevolezza che sta facendo una partita e bisogna prenderla sempre in modo positivo, entrare in campo e dimostrare quanto si vale. La prossima partita è ancora molto impegnativa, si va a Cremona, con che spirito e con che intenzioni si va? Bisogna allenarsi bene e andare là per fare tutti. Grazie. Grazie.